Benvenuti o bentornati sul canale di Alessia Lux, dipende se già mi conoscete oppure la prima volta che mi vedete. Oggi andiamo a realizzare questa nail art che è piaciuta tantissimo ed è veramente semplice da realizzare. Ed eccoci qua, queste erano le unghie realizzate un mese fa e quindi abbiamo testato bene questi prodotti come sempre. Questo è un semi permanente rinforzato, quindi non abbiamo utilizzato gel o costruttori, è solo un semi permanente rinforzato nella spina centrale. Tutti i prodotti adesso li andiamo appunto a vedere perché tanto con lei, che è mia madre, so che questi prodotti durano così tanto, quindi non li cambio, praticamente li riordino sempre. E quindi anche su di me durano la stessa tempistica, quindi continuo ad utilizzarli. Qui andiamo a smontare con una punta Raptor, questa l'avevamo presa da Aliexpress, è una grana non troppo abrasiva perché con il semi permanente non dobbiamo utilizzarla molto abrasiva. E penso che sia una fascia blu forse, ma non lo so, non c'è più il bollino quindi non saprei. Se riesco a trovare il video spacchettamento ve lo metto qui sotto nell'info box. Mi raccomando aprite sempre l'info box perché così vi trovate tutti i link utili e tutti i miei collegamenti anche alle playlist. Il mignolo questo ve lo faccio vedere un po' più da vicino perché il mignolo e l'anulare di questa mano vanno verso l'alto, quindi cerco di smontare tutto, tutto il prodotto in punta. Comunque il refill è molto più veloce quando non ci sono sollevamenti, come vedete qua non ce n'è neanche uno. Nel caso in cui trovo una qualsiasi bolla vado comunque a rimuovere il prodotto di tutta quell'unghia, anche se ne trovo una sola. Invece in questo caso ho lasciato la maggior parte del prodotto, anche perché ho utilizzo sempre lo stesso, quindi non ho problemi di discromie con lei. E poi vado appunto a limare e a fare la forma con questa nuova lima. Questa è quella in legno, quella fina fina, che ho riordinato, ma purtroppo l'ho ordinata da Shane e mi sono arrivate quelle normali con lo spessore normale, mannaggia la miseria. Quindi penso che le riordinerò di nuovo, perché mi ci trovo veramente bene. Nonostante è una 150, che comunque mi potete utilizzare solo per rimuovere il semi permanente e non vado nel giro cuticole, come si può ben vedere. Mi lima velocemente, rimane rigida, non mi si piega, mi piace tantissimo. Qui gli stavo facendo vedere le mie di unghie. Vi prometto che presto caricherò questo video, scusate, sono un po' indietro, poi vi spiegherò bene il perché e il per come sto così indietro con i video. E niente, vado praticamente a pulire tutto quello che c'era da pulire. Sollevamenti e bolle, come vi dicevo, non le ho trovate, quindi sono molto molto contenta. Andiamo a spingere le cuticole con il bastoncino d'arancio. Io penso che rimuoverò piano piano tutti i spingi cuticole in acciaio. Penso che quelli in acciaio li utilizzerò solo per i piedi, perché come spinge il bastoncino d'arancio non spinge nessuno. E mi piacciono tantissimo, mi aiutano anche dopo per la pulizia magari del colore che cola o cose del genere. E' molto molto comodo, usa e getta, non ci sono problemi, non va sterilizzato, si prende e si butta. Poi vado a passare questa puntina per le cuticole, le vado ad alzare bene ma non troppo, nel senso che non faccio una manicure molto molto invasiva, nel momento in cui sono alzate si rimuovono semplicemente con le forbicine. Disinfetto sempre prima di tagliare le cuticole con le forbici. Queste sono le stelex, queste erano ancora quelle lunghe e vi consiglio di ricomprare queste, perché quelle corte da 18 non mi ci trovo proprio benissimo. E con lei sto attenta ulteriormente a non ferirla e non tagliarla, perché è diabetica. Quindi prende anche gli anticoagulanti, quindi se qui facciamo una ferita stiamo fino a Natale ad aspettare che smette di sanguinare. E le infezioni, mi raccomando, nelle persone diabetiche è molto pericoloso, quindi utilizzate solo cose usa e getta, come sto facendo io. Qui infatti utilizzo un Sandy Banks per non prendere un'altra lima da 180, sinceramente, per non sprecarla. Ma ho utilizzato direttamente un Sandy Banks grana fine, quello che è coordinato da Passione Unghie. Lo vedete nello spacchettamento ultimo di Passione Unghie, appunto. E mi ci trovo, devo dire, benissimo. Andiamo a pulire bene, soprattutto vicino al giro cuticole, con l'alcol isopropilico puro, 99%, quello che mi avete visto spacchettare sul video di Amazon. Primer non acido, non necessariamente della stessa azienda, della base. E poi andiamo ad utilizzare le mie, fantastiche, Fiber di Passione Unghie, HD Fiber. Questa è quella microglitterata, lo vedete lì, poi vi dico bene il nome. Glitter Gold, eccola, è bella, proprio bella, bella, bella. Vedete lì si è fatta una piccolissima feritina, ma non sanguina. Allora, questa è la prima o la seconda volta che utilizzo questa glitterata, questa base glitterata. e ha retto benissimo, perché è già venuto a fare l'altro refill, quindi so benissimo che sono tornate le unghie tutte attaccate. Come vedete faccio una passata leggera a smalto, come faccio sempre anche per il gel, e la mando in lampada a 60 secondi. Questo colore io lo utilizzo tantissimo anche sopra gli altri colori. Tipo, ho fatto una storia su Instagram con delle unghie arancioni, diciamo salmone, più che arancione, e sopra era glitterato, ma non era il salmone ad essere glitterato, è che sopra a un arancione ho passato questa base ed è venuto un po' più salmonato, perché comunque questa base è un po' rosata, ma è venuto con questi microglitter carinissimi. Poi qua sono andata ad utilizzare le scagliette che mi avete visto spacchettare nell'ultimo video. Vi lascio il link qua sopra nella i o sempre sotto nel box informazioni. Vi facevo vedere tantissimi colori, ma non mi ricordo se erano 15 o 12, non mi ricordo, colori di scagliette. Queste sono quelle che davano un pochino sul salmone già, e le ho meschiate, essendo questo un semi permanente rinforzato, con la fiber base, questa volta crystal rose, che poi in realtà è quasi trasparente, insomma ha un leggerissimo riflesso rosa, ma non si percepisce. Quindi ho messo le scagliette, un pochino di fiber base crystal, che gli ha dato questa profondità molto bella, e ci ho messo un po' di glitterini, ecco tutto qua. Non ho aggiunto nient'altro, perché l'effetto ci piaceva tantissimo. Questo effetto marmorizzato proprio è venuto bello, bello, bello. Purtroppo mettendone una certa quantità, cola un pochino, anche perché quella giornata erano tipo 36 gradi, una cosa infernale a Roma, quindi cola un pochino, e sono andata a fermarla al volo con quella lampadina che mi avete visto sempre spacchettare qui sul canale, andate sulla playlist spacchettamenti perché sono impazzite nel mio canale, e sono andata al volo a fermarla un attimo, proprio perché colava da tutte le parti, così potevo fare l'altra unghia in tutta tranquillità. Non lo so, a me questi effetti piacciono proprio tantissimo, spero piacciono anche a voi, l'ho utilizzato appunto su varie persone, ma sul semi permanente rinforzato non l'avevo mai fatto. Logicamente fanno un pochino di spessore, quindi l'unghia sulla quale mettete le scagliette, primo va limata, dopo, non come il semi permanente rinforzato, che io passo solo il buffer prima di mettere il colore, o addirittura delle volte è fatto talmente bene col pelle nero fino che vado direttamente di lucido. In questo caso dovevo comunque decorare, quindi in ogni caso dovevo per forza togliere la dispersione e bufferizzare. Mi sono preparata tre colori per fare appunto le palme, che è un verdone scurissimo di Venalisa, il verde, quello militare, ecco non mi veniva, e di Passione Unghie, e il bianco ho utilizzato quello di Michelle Nails, che è quello con la puntina insomma fina, già per fare il liner. Allora sul mio decoro il liner bianco mi ha dato un po' di problemi di volumerizzazione, probabilmente ne era andato troppo, e quindi state attenti alle quantità, anche se dovete fare una French, state attenti a non metterne troppo. Comunque il decoro come si fa? Mi faccio due linee guida con il colore più scuro, poi mi miscelo un po' i due colori, il più scuro e il mezzano diciamo, e mi creo una terza tonalità. Mentre stendo il colore, che sembra un po' bruttino, in realtà continuo ad utilizzare i colori miscelati. Non utilizzo solo un colore, perché proprio il bello della naturalità delle foglie, della natura, delle rose, è che non dappertutto è lo stesso colore. Se utilizzate sempre lo stesso colore, non vi verrà l'effetto naturale. Ecco, se vedete i pittori, insomma, hanno le tavolozze con tutti i colori mischiati, proprio perché più tonalità utilizzate, e più viene realistico, perché in natura non esiste un colore puro. Ecco, quindi mi faccio appunto questa prima passata, un po' anche abbastanza sempliciotta, non è che faccio subito le righe precise. L'importante è che si vedano le righe quando tirate il colore, cioè più che altro è mettere il colore e poi tirare via il colore in alcuni punti, che si vede attraverso le foglie. Poi mi vado a prendere un po' di bianco, dopo che ho polimerizzato il verde, e non lo uso sempre puro, ma comincio a miscelare con i colori più chiari. Quindi vado a schiarire, un po' a scurire. Come vi dicevo, non dovete utilizzare sempre la stessa tonalità. Alla fine, prima di andare sempre in lampada, passo il colore più scuro al centro per rifare, diciamo, l'anima e dargli quindi un po' di ombra. Diciamo, la parte più chiara deve essere in superficie. Quindi questo è, diciamo, lo scopo. Quindi andiamo con questo pennello. Questo è quello che abbiamo spacchettato da poco, vi lascio anche di questo il link. Mi sto trovando molto bene con questi pennelli, devo dire la verità. E niente, anche qui ho fatto un po' di bianco, poi ci ripasso un pochino di verde per non far totalmente vedere il bianco forte e rifaccio l'ombra centrale più scura. Tutto qua. Questa è la sovrapposizione di colori, mi piace tantissimo. Poi vado con un lucido matt di Venalisa su tutti e due i decori. E poi vado, appunto, ad aggiustarmi un po' la forma, le unghie che sono venute un po' in rilievo per via delle scagliette. Qui mi vedete utilizzare un buffer e una lima usa e getta. Sempre, come vi dicevo prima, mi piace utilizzare le cose usa e getta. Però ho dovuto anche raschiare un pochino queste madre perla e quindi ho utilizzato anche un pochino di shine, di quella 150, perché se no non ce l'avrei fatta a limare un po' la struttura. Quindi su queste unghie un po' di spessore c'è, ma è anche bello da vedere, nel senso che con lei dovrei fare comunque un po' di correzione della forma, ma utilizzando un segmento rinforzato non è che possiamo andare a fare tutte queste correzioni. quindi si vede insomma quelle che sono state corrette come forma e quelle no. Sono tutti i pollici che poi lei ha l'artrosi deformante e quindi i pollici hanno proprio necessità di essere aggiustati e addrizzati. Guardate, questo mignolo mi fa impazzire perché appunto siamo riusciti a mandarlo dritto, invece i suoi mignoli vanno praticamente al cielo e quindi siamo molto contenti. Quella medicina poi la vado a rimuovere, la stavo odiando in questo momento in cui metto il lucido. Ha voluto anche la palma lucida, io l'avrei lasciata opaca, lo sapete a me piace il contrasto opaco e lucido. Adesso ho una mano lucida e una opaca, pensate voi. Mi piaceva tantissimo la palma opaca. Questa può essere anche un'idea, tenetevela nella vostra playlist magari di YouTube per Natale, perché qui basterà fare o un decorino dorato o delle palline rosse, ma questa è la base del vischio di Natale praticamente. Quindi tenetevela magari nelle playlist. C'è anche la playlist Guarda Dopo, io la utilizzo spesso e quando un video mi interessa e magari dico, ma questo lo dovrei vedere sotto Natale. Allora il Guarda Dopo mi rimane diciamo una playlist più vuotarella e spesso ci vado a guardare e dico che ho lasciato sul Guarda Dopo. Oppure vi fate una playlist su YouTube, magari in iLart, oppure Natale, o qualsiasi cosa, e ve la mettete, perché è molto utile salvare i video, perché poi li vedete, ma chi se li ricorda poi a Natale. Quindi niente, sto mettendo l'olietto, come sempre, l'effetto mi piace da morire, a lei è piaciuto da morire, anche perché rimane appunto una palma ancora estiva, ma con appunto dei decori rossi e dorati diventa tranquillamente quella di Natale. niente, io spero come sempre che questi video vi possano essere utili, anche per vedere appunto quali prodotti, perché me lo chiedete spessissimo quando metto le storie su Instagram, anzi venite a trovare anche su Instagram, mi chiamo alessialux, dove metto appunto la durata un mese, 45 giorni, queste sono durate forse 40 giorni, sì. Mia madre fa orto, cucina, fa le cose di casa, non usa guanti per lavare i piatti, o cose del genere, quindi maltratta tantissimo queste unghie, che oltretutto hanno l'artrosi deformante, quindi degenerativa, quindi andremo sempre peggio, e quindi cerco di fargli le mani più carine possibili, proprio per farla sentire un pochino più bella, e voglio dirmi che dopo i 65 anni dovremmo portare tutti le unghie nude, non esiste proprio, io ho più clienti che azzardano dopo Yanta, che le ragazze, è incredibile questa cosa, ditemi anche voi qui sotto nei commenti, se anche a voi vi capita questa cosa, e se è una cosa generalizzata, infatti le unghie precedenti come vedete erano leopardate glitterate, quelle ancora prima erano sfumate tra il fucsia e il rosso, insomma avevano un effetto molto molto particolare, questo è il mio French, con semi permanente molto pigmentato, tutto fatto in diretta, quindi vi lascio sempre i link, e niente, vi mando un bacione, questo è uno spacchettamento Bon Pritti, vi dico che Bon Pritti, avete il link qui sotto per accedere al sito, e avete anche uno sconto del 10%, se vi può interessare, i prodotti sono molto buoni, i semi permanenti pigmentatissimi, sono rimasta molto molto soddisfatta, e comunque se volete vedere appunto qualche prodottino, soprattutto i metallic, i gel metallic, sono bellissimi, eccolo qua, lo vedete in questo momento, ce l'ho di tutte e tre i colori, e niente, vi saluto, vi aspetto su Instagram, Facebook, su Telegram c'è il canale, quindi potete, diciamo, vedere tutti i link che vi carico, ma non è un gruppo, quindi non è che scrivono tutti, e vi siete tartassati di notifiche, è solo un canale dove io vi notifico quando sono in diretta, o altre cose, un bacione, ciao da Alessia Lux, un canale, che vi è avanti al canale, grazie a tutti e, grazie a tutti i nostri strumenti, vi aspetto, c'è il canale. Grazie a tutti.